Ha preso il via dalla dimora storica Palazzo Stillo Ferrara, il Paola Festival 2021, armonie e arte a palazzo. La serata è iniziata con l'inaugurazione del MUBI, museo storico documentale di arte sacra intitolato a Don Salvatore Stillo, e della biblioteca multidisciplinare Stillo Ferrara. Siamo veramente felici di inaugurare il Paola Festival 2021 con questo nostro progetto, un nuovo progetto, l'inaugurazione del MUBI. In realtà la biblioteca era già aperta al pubblico, ma oggi noi la riconsegniamo completamente catalogata e anche molto ampliata, grazie a diverse donazioni che ci sono state fatte in quest'ultimo periodo, l'ultima delle quali proprio dalla Fondazione Carical. Il museo invece lo apriamo questa sera, è dedicato ad un personaggio storico della nostra città, non soltanto un parroco, è una persona che ha vissuto molto la vita della città ed è il primo spazio museale della città di Paola. Siamo molto orgogliosi di questo e vorremmo che diventasse un punto di riferimento di un museo diffuso di tutti i beni culturali della città, partendo dalla dimora storica Palazzo Stillo Ferrara per la valorizzazione appunto di tanti importanti beni culturali che ci sono intorno alla nostra dimora. Dopo la visita dello spazio museale e della biblioteca, nel corso di un interessante convegno, è stato focalizzato un tema di grande attualità, il ruolo del museo nel territorio. Il Paola Festival 2021 proseguirà domenica 1 agosto con il concerto della rinascita, dedicato ad Orfeo Stillo nel quarantennale della sua morte e a tutte le vittime del Covid-19.